Presidio di democrazia, libertà e legalità, qui abita la Costituzione, nelle nostre sedi abita la Costituzione, quello che è accaduto è un fatto di una gravità inaudita, che ha precedenti circa 100 anni fa, ma veramente va respinto con decisione, è un attacco alla democrazia, guardate non è neanche la questione del Green Pass, ma lì è solo una scusa perché una volta c'è il Green Pass, l'altra volta gli immigrati o altri problemi, sono scuse per fare violenza e attaccare i presidi di legalità e di democrazia, è giunto il momento che il Parlamento si decida e le associazioni che professano apologie di fascismo vengano immediatamente cassate, perché è così come prevede la nostra Costituzione, quindi io mi auguro che il Parlamento abbia una reazione immediata rispetto a questa violenza, a queste illegittimità, gravi illegittimità.